La tangenziale est di Torino è un'opera inutile con un costo che non si giustifica e un impatto ambientale che danneggia i comuni attraversati. Lo sostiene 5 Stelle che con il capogruppo in regione Davide Bono e l'esponente di federazione della sinistra Eleonora Artesio promuove un sondaggio e una campagna informativa tra i cittadini di Torino e dei 12 comuni della collina interessati al progetto. Il comitato no tangenziale est chiederà a 2.000 residenti se conoscono il progetto, i costi e i benefici. Un miliardo di euro per 22 km di tangenziale a pagamento dicono che non avrà uscite su Torino e una prevista riduzione del traffico di appena il 6%.